Dà il dolore il compito quasi rivelatorio, mentre la salute è silente, il dolore è eloquente, il patologico è eloquente. A fianco a questo, proprio come Gadamer, tiene aperto questo dialogo, dunque si presta dopo il suo intervento alle provocazioni, alle critiche, anche ai chiarimenti richiesti dal consesso medico. Dottore, dottore, dottore!